durante la giornata che magari non abbiamo flussi di lavoro tanto importanti potremmo mettere il gruppo in stand by agendo sul tasto numero 3 e spingendo indietro la leva metteremo il gruppo in off e di conseguenza avremo il gruppo disattivato lavoreremo solo con uno proprio per un discorso di risparmio energetico qualora volessimo riattivare il diciamo l'utilizzo del gruppo basta schiacciare di nuovo il tasto 3 spingere la leva e ricompare la temperatura il gruppo entra in temperatura più o meno in 45 minuti persona cosa anche velo rapidissimo